Lo sapevate che esistono profezie che si autoavverano solo per il fatto di essere state pronunciate? In questo viaggio mentale partiremo da questo concetto e studieremo gli effetti psicologici che questo comporta. Effetti che ci portano alla scoperta di Hans l'intelligente, un cavallo in grado di fare le operazioni matematiche, e di conseguenza alla scoperta di Secretariat, un animale della stessa specie con una velocità fuori dal comune. Sono sicuro che guardando l'ultimo viaggio sulla profezia di Malachia vi siete abbastanza cagati sotto, eh? Ve l'ho già smentita dicendo che è un falso, quindi potete stare tranquilli. Ma se proprio non volete credere a quella storia, adesso vi dico un'altra cosa che potrebbe aiutare a rilassarvi e mettervi l'anima in pace. La profezia di Malachia potrebbe in realtà essersi rivelata giusta fino a questo momento perché è una profezia che si autoavvera. Già sento lo scetticismo venire fuori dalla folla. In pratica, per una questione psicologica, solo per il fatto che quella è una profezia, siamo portati a pensare che sia vera e quindi ci vediamo dei collegamenti con la realtà anche dove non ci sono. Vediamo cosa ci dice Wikipedia. In sociologia, una profezia che si autoadempie, o che si autoavvera, o che si autodetermina, o che si autorealizza... Ho capito, minchia, un altro sinonimo mi vuoi dire! È una previsione che si realizza per il solo fatto di essere stata espressa. Predizione ed evento sono in un rapporto circolare secondo il quale la predizione genera l'evento e l'evento verifica la predizione. Come tutte le definizioni pare una supercazzola. Ma adesso ve la spiego io! Una profezia che si autoavvera capita quando una persona è talmente convinta che quello che dice la profezia debba succedere, da cambiare il suo comportamento in modo che succeda. Vabbè, non è che le mie definizioni siano meglio, eh. Facciamo degli esempi. Diciamo che un tizio qualunque, chiamiamolo Pinco Pallo, una mattina si sveglia e fa una profezia completamente a caso. La banca Monte dei Pascoli di Campagna fallirà. Questa cosa non è vera, Pinco Pallo non ha nessun dato per dirlo. Però cosa succede? La gente sente della sua profezia e per qualche motivo decide di crederci. Allora tutti i clienti della banca vanno a ritirare i propri soldi per evitare di perderli. La banca quindi si trova senza una lira, fa i debiti pur di restituire i soldi e fallisce. Quindi Pinco Pallo ha detto una cosa a caso e quella cosa si è autoavverata perché la gente ci ha creduto e ha fatto delle azioni che hanno fatto sì che quella cosa si avverasse. Incredibile, oh. Ovviamente dietro questo tipo di profezia gli scrittori fantasy ci sguazzano. Per esempio, in Harry Potter Voldemort viene a sapere di una profezia che dice che un ragazzo nato alla fine di luglio lo ucciderà. Lui prende la profezia per vera e va a casa di Harry a uccidere tutta la sua famiglia prima che questo ragazzo diventi grande. Ma riesce a uccidere tutti tranne Harry, dandogli così un motivo per uccidere Voldemort. Spoiler, alla fine Voldemort muore ucciso dal ragazzo e la profezia si avvera. La profezia quindi ha scatenato la reazione di Voldemort che è stata la causa stessa del suo avverarsi. Perché se Voldemort non ammazzava i genitori di Harry, a Harry che gliene fregava di lui. Ora, a questa cosa di essere la causa stessa dell'avverarsi della profezia, aggiungiamoci il concetto del tempo che so che a voi piace. E questo non è da fare cura. No. Viene fuori il paradosso della predestinazione, che dice praticamente che un soggetto è predestinato a una certa fine. Quindi anche se viaggia nel tempo per cambiare il passato e evitare di fare quella fine, alla fine sarà lui stesso la causa che porterà a quella fine. Per esempio, nella serie Dark, super intrippante che ho anche riassunto per intero pentendomene amaramente perché per far tornare tutte le storie l'hanno penato come un disperato, l'anziano Helge sai che in età giovanile subirà un incidente in auto che lo porterà alla semidemensa. Quindi viaggia nel tempo per rintracciare il se stesso giovane e metterlo in guardia su quell'incidente. Il risultato è che mentre cerca di salvarsi, è proprio lui da vecchio che ha l'incidente con il lui più giovane portandolo così alla demenza. Il passato non si può cambiare, non ce n'è. Questo dice il principio di autoconsistenza di Novikov. Viaggiare nel tempo crea degli anelli temporali immutabili. Pensate che c'è pure gente che studia questi scenari assurdi con gli esperimenti mentali. Se la cantano e se la suonano, insomma. Eppure io, visto che di queste cose ne ho già parlato in un altro click and trip, andatelo a recuperare. Ecco, però diciamo che secondo questi principi sembra che io posso dire qualsiasi cosa che tanto alla fine si autoavvera. Tipo adesso io dico il canale Bounded Mind arriverà a 100.000 iscritti entro il 2022. Ma non è così facile, perché se voi mi date retta e la voce di questa profezia si sparge, la gente inconsciamente segue la profezia e si iscrive, e il canale arriva a 100.000 iscritti. Se nessuno di voi mi caga, invece ciao e tanti saluti. Il punto è proprio che per avere una profezia che si autoavvera, la gente ci deve credere alla profezia, se no non succede niente. Questa cosa della profezia che si autorealizza in psicologia si può trovare in altri aspetti. Ci sono infatti tre effetti strani che più o meno si riconducono a questo, perché in un certo senso c'è una specie di profezia di mezzo, anche se dovuta alla propria testa e non pronunciata da nessuno. Il primo si chiama Effetto Hawthorne ed è stato scoperto a caso. Praticamente due studiosi volevano fare un esperimento per dimostrare che se degli operai sono in un certo ambiente lavorativo, la loro produttività aumenta. Allora si sono messi a guardare degli operai mentre lavoravano in un particolare ambiente e hanno visto che effettivamente quelli erano più produttivi di prima. Quindi subito hanno pensato di aver dimostrato la cosa. Quegli operai invece erano più produttivi semplicemente perché sapevano che c'era qualcuno che li stava guardando. Giustamente se c'è qualcuno che ti guarda, tu non è che ti metti a cazzeggiare. Quindi l'Effetto Hawthorne è questo, il risultato di qualcosa influenzato dall'osservatore. Il secondo è l'Effetto Pygmalione, anche chiamato Effetto Rosenthal, come il tizio che l'ha teorizzato. Questo in pratica succede per esempio a scuola. Se i maestri ti inquadrano subito come uno meno bravo degli altri della classe, anche inconsciamente finiscono per trattarti come tale. Quindi tu bambino, visto che ti trattano come tale, inizi a sentirti tale. E quindi ti comporti di conseguenza e comincia una specie di circolo vizioso che ti porta effettivamente a diventare esattamente come il maestro ti aveva immaginato. Il terzo è l'Effetto Aspettativa, noto anche come Effetto Rosenthal. Ma tutto lui ha fatto. Questo succede quando tu stai facendo un esperimento che vuoi che porti certi risultati e quindi ti fai un'aspettativa su come dovrà finire. Quindi finisci per vedere nei risultati quello che tu volevi dimostrare, anche se in realtà non è successo niente, non c'è nulla che riconduca a quello. Esempi di Effetto Aspettativa sono tutti quelli per esempio relativi ad animali che prevedono cose. Vi ricordate il polpo poll che prevedeva il risultato delle partite del mondiale? Guarda, c'ha pure la pagina Wikipedia con la data di nascita e di morte, è una star sto polpo. Ma prima di lui c'era un altro animale ritenuto intelligente, che però in realtà era vittima dell'Effetto Aspettativa. Talmente intelligente che era pure il suo soprannome, Hans l'Intelligente. Hans l'Intelligente, in tedesco der Kluge Hans, era un cavallo che sapeva fare operazioni matematiche e logiche. Questo era di proprietà di un insegnante di matematica addestratore di cavalli e secondo il suo padrone sapeva fare le addizioni, le sottrazioni, le moltiplicazioni, le divisioni, le operazioni con le frazioni, il regista di film per adulti e il caffè. Ok, le ultime due le ho aggiunte io. Comunque, visto che il suo proprietario si portava sto cavallo in tour come fosse una rock star, un giorno ha attirato alle attenzioni dello psicologo Oscar Pfungst. Che bel cognome pronunciabile, fra l'altro. Questo Pfungst si è messo a fare delle prove col cavallo e ha scoperto che lui faceva bene i conti non perché sapeva fare le operazioni, ma perché leggeva il linguaggio del corpo involontario di chi gli faceva le domande. E la gente era vittima dell'Effetto Aspettativa perché sapeva che quello doveva saper fare i conti e quindi vedeva nei suoi gesti che i conti li sapeva fare. Fra l'altro ora non si sa manco che fine abbia fatto sto cavallo. Ma non è manco l'unico della sua specie ad essere famoso. Un altro famoso cavallo, per altri motivi perché non è che mo' tutti sanno contare, è Secretariat. Secretariat è stato un cavallo puro sangue inglese, campione negli Stati Uniti, che ha stabilito un fottio di record che durano ancora ora e ha vinto un bordello di trofei. Il Kentucky Derby, il Prickness Stakes, il Belmont Stakes, la Triple Crown of Trowbred Racing. E non so perché li sto leggendo, visto che non ci capisco niente. Nella classifica dei 100 migliori cavalli da corsa americani del XX secolo è posizionato al numero 2, subito dopo Manowar. Cioè tutto sto casino e poi è secondo. Comunque la storia di questo cavallo è così strana che secondo me qualcuno ci sta ancora rosicando. Praticamente c'era questo tizio, di nome Ogden Phipps, che aveva questo cavallo di nome Bold Ruler, che era uno dei più importanti stalloni del tempo, proprio meglio anche di Sylvester. Ok, questa faceva pena. Insomma, lui si è messo in contatto con una certa Penny Tweedy e si è fatto mandare due cavalle per far accoppiare il suo stallone con entrambe e fare due puledri. Le cavalle erano Hastie Matilda e Something Royal, nomi proprio puri e misurati. Sono rimaste tutte e due incinta e poi Phipps e Tweedy hanno lanciato una monetina per scegliere chi doveva prendersi quale puledro. E ora ascoltatemi bene. Phipps ha vinto il lancio della monetina e ha scelto il figlio di Hastie Matilda. Tweedy allora si è presa il figlio di Something Royal. E il bello è che ora nessuno sa chi diavolo sia il figlio di Hastie Matilda perché Secretariat è il figlio di Something Royal. Cioè questa ha perso e si è pure beccata il cavallo più forte. Pure il nome è particolare e significa segreteria perché quando è stato iscritto alla prima corsa e dovevano dargli un nome nessuno andava bene e siccome ce l'aveva portato lì la segretaria alla fine si è un po' scocciata e gli ha dato il nome del suo lavoro. Questo cavallo poi ha fatto la storia. Era davvero una gallina dalle uova d'oro e quando ha smesso di correre è stato usato per fare altri puledri nella speranza di far nascere cavalli forti tanto quanto lui. Pensate, sto Secretariat ha ingravidato 610 cavalle. Pensa che l'uomo con più figli del mondo è questo Akukudanger che aveva 210 figli. Il cavallo l'ha surclassato. Ma pure io che paragono le due cose, vabbè. Dopo essersi proprio divertito, Secretariat è morto all'età di 19 anni e nell'autopsia hanno scoperto che il suo cuore pesava il doppio di un cuore di un normale cavallo. Te credo che correva di più. Secretariat era una vera star. Guarda quante statue gli sono state dedicate. Due in realtà. Credo. Comunque su una di loro c'è una storia pazzesca. La statua in questione è quella che sta all'entrata del Belmond Park a New York. Nel 2009, mentre un cavallo stava andando in pista col fantino a bordo a un certo punto è impazzito senza senso. Si è messa a correre come un disperato e si è andata a scantare proprio contro la statua di Secretariat che si è pure rotta per questa cosa. Il cavallo si è fatto ancora più male. Si è sfracellato la gamba e per la troppa sofferenza è stato soppresso. Avrà visto il suo idolo di una vita e voleva omagiarlo, che ne so. E la statua del cavallo ci offre un ottimo spunto per cambiare argomento perché di statue e di cavalli ce ne sono tantissime in giro per l'Italia e per il mondo. Queste statue però hanno pure il cavaliere. Sono le statue equestri. Io volevo parlare anche delle statue equestri in questo viaggio ma ci sono talmente tante cose interessanti da dire che non ne ho il tempo. Poi vi stancate e non mi seguite più. Quindi facciamo che ci fermiamo così. Ma tanto lo sapete ormai come funziona. La prossima volta riprendiamo esattamente da qua. Grazie per aver viaggiato con me anche oggi. Spero che questi video stiano diventando più interessanti col passare del tempo. È importante per me riuscire a trasmettere passione e curiosità con questi viaggi. Per supportarmi potete fare le solite cose. Condividere, commentare, lasciare mi piace e basta. Dai, non mi piace dire queste cose. Alla prossima!